salve a tutti questa sera abbiamo a che fare con delle canalizzazioni dico delle perché faremo in due varianti utilizzeremo sette carte per variante e utilizzeremo un mazzetto delle carte di osso che mescoliamo al momento prepariamo i mazzetti avremo la variante giaco e la variante ape scusate l'ombra delle mani e la canalizzazione partirà in questo modo l'incipit è sebbene non possa contattarti se io riuscissi ti direi che se riuscissi a farlo ti direi che vediamo un pochino cosa ci direbbe quindi non so ognuno di voi ascolti il messaggio e cerchi di capire da chi viene oppure pensi una persona e cerchi di intuire se il messaggio è attendibile quindi potrebbe trattarsi di amore di amicizia anche di parentela avere un figlio un genitore un fratello una sorella vediamo un pochino allora innanzitutto prepariamo i nostri eccoci qua con il nostro numero tanto amato il 7 va bene vediamo se l'ho messe giuste si mi pare di sì perfetto avevo paura di aver mescolato le carte cioè le mescolate realmente bene che avevo paura di aver mescolato anche le due varianti bene ragazze e ragazzi prendetevi tutto il tempo necessario voi potete anche stoppare il video ed aspettare oppure scegliere distinto di pancia abbiamo il nostro giudice che sorveglia tutta la procedura e detto ciò direi di iniziare iniziamo con la variante geco sebbene non possa contattarti non mi sia difficile farlo non riesca a farlo se potessi vorrei dirti che non vedo l'ora di rivederti di abbracciarti qui dove sono è come stare in prigione non ce la faccio più io provo a dimenticare provano pensare prova ad attendere ad aspettare pure dentro di me il malessere compresso compresso il malessere compresso l'energia trattenuta ma il desiderio di correre da te ecco entrano in conflitto in collisione tra di loro questa energia si sta accumulando si accumula e va a sbattere contro le pareti del mio cranio intorno al mio petto dentro il mio petto a fianco al mio cuore più veloce dei battiti del mio cuore è un tumulto non ce la faccio più io sento che sto per esplodere e ho paura perché se adesso facessi saltare tutto giocherei tutte le opportunità che ho cercato di coltivare di preparare nel frattempo attendendo tanto e soffrendo anche tanto della nostra distanza e per la nostra distanza sappi io non ce la faccio più se non cambia qualcosa dovrò cambiare qualcosa io ho paura solo che se dovessi mai esprimermi mi impedirebbero e mi impediranno di venire da te quindi aspettami ti prego io sto facendo il possibile so che tu soffri ma anche da parte mia e anche qui da me la situazione non è facile io vorrei incamminarmi io partirei anche oggi tu sei sempre lì davanti a me io sono focalizzato focalizzata verso l'obiettivo che se tu sei un sole io sono sempre con il pensiero puntato a te immagino che tu riesca a sentirmi la nostra una connessione profonda anche se non mi vedi io non ti vedo all'orizzonte io so che ci sei perché vedo quella luce al di là delle nubi non vedo te ma vedo quella luce so che quella luce ha a che fare con te sei tu non so quali ostacoli incontrerò e sicuramente il cammino è difficile e lungo e so anche che mi toccherà attendere ancora molto tempo e la cosa più difficile da accettare in questo momento sono proprio le tempistiche perché non ce la faccio più io vorrei prendere andare vorrei lasciarmi tutte le spalle ma non so come fare il problema è che non lo posso fare non posso neanche agire così con un colpo di testa dare di matto perché perché tu lo sai potrebbero legalmente costringermi a rimanere o potrei anche peggiorare la mia situazione invece adesso devo cercare di trovare la migliore maniera per poterne uscire in modo non dico corretto perché non riuscirò a farlo lo so non c'è un modo corretto modo migliore ma forse quello più silenzioso quello che mi permetterà da qui al futuro almeno di iniziare a ritagliarmi dei momenti con tema in tranquillità e poi piano piano cercare di coltivare anche un contesto tale per poter seminare una dinamica diversa una vita di coppia un qualcosa che sia solo mio e tuo non è facile amore mio e io non ce la faccio più darei questo taglionetto subito per me sarebbe rinascere io voglio lasciarmi tutte le spalle quel fuoco che mi brucia mi sta distruggendo mentre io sento semplicemente di voler sfruttare questo fuoco questa energia questo calore per rinascere dalle mie stesse cenere a volte ho paura che l'attesa così lunga mandi effettivamente tutto in cenere ho paura che tutto venga distrutto dal contesto della mia incapacità di capire qual è il momento adatto eppure io sono sempre lì ad osservare osservare tutte le situazioni per cercare di capire quando è che col cancello si aprirà per poter fuggire per poter spiccare il volo però purtroppo ancora non ci sono riuscito sa che il mio pensiero il mio cuore sono costantemente in veglia verso di te tu sei la luce che rischiara le mie giornate sei il sole delle giornate e la luna della notte io ti immagino ti immagino bella come sei come ti ricordo non ci sentiamo da tanto tempo non ti posso scrivere non ti posso telefonare non posso sapere nulla di te a volte io cerco di carpire qualche informazione tramite le persone che conosciamo le persone che conoscono anche te ma non posso mai fare domande dirette ed ecco che a volte quando sento qualcuno parlare di te faccio finta di pensare ad altro di fare l'altro invece sono lì sono lì focalizzato tutte le mie antenne sono rivolte a cercare di capire cos'è che viene detto perché in quel che io ascolto è come se mi sentissi molto più vicino a te e ti prego di non essere malinconica ti prego di non soffrire lo so che è un'affermazione inutile perché neanche io riesco a non soffrire però sappi una cosa quando non mi vedi perché non mi vedi ancora tornare e questa situazione durerà ancora per molto però quando mi pensi guarda il sole guarda la luna sappi che io dall'altra parte sto facendo la stessa cosa siamo costantemente proiettati l'uno verso l'altra siamo uno riflesso dell'altro siamo collegati anche stanno zitti senza parlare ci capiamo semplicemente guardandoci dentro di noi c'è un mondo che non conosce nessuno solamente noi ci sono galassie di pensieri e di sentimenti e mentre gli altri fuori ci vedono ciascuno portare avanti la propria vita la propria quotidianità i propri gesti freddi quando ci dobbiamo osservare da lontano e far finta di niente in quel frangente le nostre anime sono già lì abbracciate a fare l'amore senza che nessuno possa capire nulla le nostre anime sanno molto più di quello che anche le nostre teste riescono a comprendere e le persone che ci osservano non riusciranno mai a capirlo non riusciranno mai a capire quali sono le sofferenze e i fantasmi che ci portiamo dentro ma non riusciranno mai a capire neppure quanto sentimento scorre dentro di noi ed è per questo che ti chiedo di essere lì pazientare aspettami amore mio non dimenticarmi io lo so che chiederti di non soffrire è sempre pretendere troppo esagerare perché forse anche io con la mia incapacità di agire ti sto facendo soffrire più del dovuto io vorrei solo che queste mie parole ti giungessero e riuscissero ad asserenarti anche se nel resto della giornata ciò che ti accompagna ti fa compagnia purtroppo sono proprio pensieri brutti la paura magari che io non tornerò o che io non stia pensando a te sappi che è solo questione di tempo perché se non si aprirà quella porta se non arriverà una soluzione qualcosa dovrò fare io sto cercando di tergiversare solo perché non voglio far saltare tutto non voglio che tutto il lavoro fatto fino adesso e le sofferenze la distanza patite siano state un qualcosa di vissuto in vano io spero che con la porta questa gabbia questa prigione si apra da sola e io possa volare verso di te perché sono diretto con il pensiero ma con il desiderio con le mie ami quelle che porto dentro il cuore verso di te con le ali che ci uniscono con le ali che fanno di noi una cosa sola e con le ali che ci faranno risorgere dalle nostre stesse ceneri che morte sia ma sia una morte per rinascere insieme in un corpo solo ovviamente metaforica la morte bene mi sembra una canalizzazione bella intensa passiamo alla seconda scusate nelle canalizzazioni il tono di voce più veloce perché le parole si proprio inseguono non deve essere ragionata è un qualcosa di veicolato e di proposto a voi proprio nell'immediato del suo formarsi sebbene io non possa contattarti in questo momento se mi fosse concesso ti direi che mi sento solo però ho imparato a convivere con la mia solitudine è vero sono stato io ad andare via sono stata io a voltare le spalle sono stata io sono stato io a dire che oramai era tutto finito e che mi attendevano nuove situazioni nuovi orizzonti nuove dinamiche sono stato freddo sono stato chirurgico sono stato forse insensibile ma in quel momento era il mio desiderio quello di andare io non ho nulla contro di te e non ho nulla contro le persone che in comune stanno cercando di rimetterci in contatto ma io voglio continuare a volare nel mio cielo e voglio continuare a difendere questa mia indipendenza il fatto che io non stia con nessuno e non stia cercando nessuna situazione non dovrebbe farti insospettire perché io non sto nascondendo nulla io sono solo perché voglio stare da solo in questo momento ho bisogno di stare solo perché devo capire quella mia mobilità che tutti vorrebbero scambiare per simulazione a non fa nulla impossibile sta fingendo a sicuramente quello che non si vede chissà dietro cosa pensa e cosa combina ai suoi occhi non sono sinceri con gli occhi nascosti dalle lenti che non fanno capire i propri pensieri ha mandato tutto in frantumi per giocare cosa per giocare una nuova partita per azzardare un cambiamento che poi realtà forse non lo sta rendendo neanche felice sì queste sono le cose che dicono è davvero che io sono immobile e sono nella mia mobilità ma io mi sto riprendendo nessuno può capire la sofferenza non dovuta a te non dovuta a noi ma la sofferenza che io porto nel mio cuore e che nelle ultime settimane nei ultimi mesi mi ha straziato da dentro io ho bisogno di capire la mia solitudine il mio stare lì fermo il mio non agire la mia apparente freddezza è solo una ricerca di di un senso alla ricerca di una consapevolezza profonda di quello che io sento di essere ma non so di essere io mi sento imperfetto mi sento incompleto e ho bisogno di completare prima me stesso per poter completare anche una coppia io non potrò mai essere un compagno adeguato se prima non trovo l'equilibrio dentro di me quindi che tu lo possa credere o no il mio allontanamento non ha nulla a che fare con i sentimenti che ho per te ma a che fare con i sentimenti che nutro in me tu adesso starai pensando che io sia stato falso io ti abbia mentito chissà quante cose avrò fatto e combinato alle tue spalle anche prima di andarmene non è così ti prego di non fare revisionismo di quello che è stato della nostra storia io non ho mai indossato la maschera io non ti ho mai mentito io non ho mai voluto ferirti io mi sono allontanato solo perché non riuscivo più a stare neppure con me stesso tra l'andare a fondo il cercare di salvarmi se fossi andato a fondo ti avrei trascinato con me quindi aspettami se vuoi e se mi ami davvero lasciami il tempo di realizzarmi lasciami il tempo di capire cosa voglio essere magari lo diventeremo assieme ma fammi per favore focalizzare un attimo su me mi verrai come egocentrico mi verrai come egoista ma io ti voglio bene e tu sei nei miei pensieri e con il pensiero mi dirigo spesso verso di te ma non lo faccio con il corpo non lo faccio con le gambe infatti non possiamo comunicare è vero ti ho bloccato su tutti i social e tu mi dirai come mai adesso mi stai mandando questo messaggio se poi avresti anche la possibilità di farlo in altro modo perché me lo sono imposto perché nel mio tentativo di capire chi sono di focalizzarmi sulla mia consapevolezza che non credo ancora di avere è vero mi sono imposto dei comportamenti nuovi delle modalità dei modi di essere che non mi sono mai appartenuti ed è una sfida con me stesso io non utilizzerò più i social io non voglio comunicare in questo modo io con il pensiero mi dirigo a te perché comunque umanamente noi siamo stati e forse saremo ancora forse lo rimarremo sempre due persone che hanno condiviso un tratto del cammino e io non ho nulla contro te infatti i miei pensieri vanno a quello che siamo stati io parlo all'anima che ho lasciato alle mie spalle chiedendole scusa non vanno al futuro ed è per questo che non riapro i canali di comunicazione io sto aspettando che tutto cambia nella mia vita e nel cambiarti quello che è intorno vorrei capire dove sono io e qual è la mia fermezza vorrei capire io dove sono e dov'è la mia circonferenza qual è la distanza tra quello che io dovrei e dovrò essere o sarò e quello che invece oggi sono in questo momento l'unica cosa che io riesco a fare è stare lì e osservare il vuoto e nell'osservare il vuoto cercare di capire se c'è qualcosa perché perché forse tu non te ne sei accorta non te ne sei accorto ma le ultime settimane sono state per me terribili una grande solitudine portando in mezzo alla gente è un grande vuoto dentro questo vuoto è stato talmente ampio che mi è sembrato di essere in una stanza senza pareti sospeso in una stanza senza pareti nella quale non hai neanche la consolazione di cadere e di battere a terra perché non trovi mai il pavimento ecco in questo momento io mi sento ancora immerso in una dimensione che non ha confini e non mi dà nessuna stabilità ma è come se all'improvviso fossi riuscito quantomeno a sedermi a terra e ora sono qui immobile perché in fondo io non lo so dove andare non so cosa sarà di me però sento solo di aver cominciato a nutrire una nuova speranza la speranza di comprendere ti chiedo scusa ma in questo momento io resto qui dove sono